Nella città di Agropoli vi sono immobili confiscati alla criminalità organizzata e consegnati al comune dall'Agenzia del Demanio che siano compatibili per utilizzo della caserma dei Carabinieri. Per questo motivo ci vorranno circa tre anni per realizzarla da parte dell'ente comunale, un anno circa per la progettazione, perfezionamento del mutuo e acquisizione di tutti i pareri richiesti per legge e due anni per la realizzazione dei lavori. La nuova caserma avrà dimensioni e comfort secondo gli standard di legge dal punto di vista statico, architettonico ed energetico e comunque con le dimensioni e caratteristiche strettamente necessarie in modo da non aumentare i costi di gestione della caserma a carico del Ministero dell'Interno. Già in passato è stata più volte avanzata dalle stesse forze dell'ordine richiesta di realizzazione di una nuova caserma che meglio risponda alle esigenze del territorio e degli utilizzatori nell'espletamento delle loro funzioni. Il nuovo presidio dovrebbe sorgere preferibilmente in prossimità dell'uscita Agropoli Sud o comunque in qualsiasi altro lotto logisticamente funzionale al posizionamento della stessa. La nuova caserma dei Carabinieri è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Agropoli. L'ente comunale agropolese compatibilmente con la verifica positiva sul mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro finanziamento sovraccomunale si impegna a costruire una nuova caserma dei Carabinieri ad Agropoli e darla in affitto al Comando dei Carabinieri ad un canone annuo di 68 mila euro ribassato del 15%.